170 autobotti in viaggio ogni giorno dal centro olio di Corletto per Ticara a Roma e Falconara Marittima. E' lo scenario prospettato dalla Total fino a che la regione Puglia non darà il via libera all'utilizzo dell'oleodotto per Taranto. Ma quale posizione ha assunto il governo regionale lucano su questa vicenda? Ha valutato i rischi ambientali e per la sicurezza stradalica onnesse a questa modalità di trasporto del grigio? Lo chiede con un'interrogazione capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia Gianni Rosa. Pittella venga a parlarcene in consiglio. E' un atto di trasparenza dovuto a tutti i cittadini lucani, afferma Rosa. Questo progetto comporterebbe un notevole impatto in termini di disagio alla circolazione e rischio ambientale, oltre a compromettere pericolosamente la sicurezza delle strade lucane. A parere di Rosa esiste un serio problema di sostenibilità di cui dovremmo essere messi a conoscenza e su cui dovremmo confrontarci. Non basterà stilare una lista di prescrizioni, come sembra secondo la stampa, abbia già fatto Pittella. Evidentemente, conclude, la lezione del centro Oli continua a non insegnare nulla.